C'era una volta Fiorenza, una venditrice di moda di abbigliamento donna su Moda Italia TV, una persona davvero allegra e piena di energia. Fiorenza combinava guai perché faceva cadere di tutto, ma riusciva sempre a mettere tutto a posto con un sorriso. Amava spiegare con attenzione i dettagli dei capi che vendeva, con una particolare predilezione per le cose lucicanti e brillanti. Adorava partecipare alle sfilate di moda e cantare canzoni allegre durante le pause. Originaria dell'Abruzzo, Fiorenza viveva nella metropoli milanese con il marito Sammy, entrambi grandi tifosi dell'acquistare Milan.